E' già vigilia di campionato in Casa Catania, domani al Braglia si recupera la gara di Modena dello scorso 7 febbraio rinviata per neve tra le polemiche. Non c'è tempo dunque per riflettere troppo sul pari interno contro lo Spezia, non c'è tempo per rimuginare su quella terrificante penultimo posto in classifica che non lascia spazio a repliche. Ci sarà tempo per capire come e perché dall'obiettivo promozione si sia passati a quello salvezza. Adesso è il momento di affrontare le ultime gare di questo disgraziato campionato con la determinazione e il cinismo necessari a tirarsi fuori dal baratro facendo leva su quell'istinto di sopravvivenza che a questo punto resta l'unico a cui aggrapparsi per provare a trovare una motivazione convincente. Per la sfida di domani Marco Lin dovrà fare a meno di Calaio fermato dal giudice sportivo ma in compenso ritroverà Castro che la squalifica alla già scontata contro lo Spezia. Al Braglia il tecnico riconfermerà con buona probabilità il 3-4-1-2 ma si starebbe anche riflettendo sull'opportunità di un ritorno al 4-3-1-2. In difesa ancora auto Belmonte rimasto fuori dalla lista dei convocati dove questa settimana si segnala la prima convocazione per il portiere sloveno classe 1997 Cristian Matosevic che indosserà la maglia numero 29. A centrocampo il tecnico potrebbe decidere di dare una chance dal primo minuto ad Oger. In avanti sarà il rietrante Castro ad affiancarsi a Maniero davanti a Rosina. Fischio d'inizio alle 18.30 ad arbitrare Modena Catania sarà il signor Daniele Chiffi della sezione AIA di Padova, con lui gli assistenti Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabbia e Pasquale De Meo di Foggia, quarto ufficiale il signor Gianluca Aureliano della sezione di Bologna, osservatore arbitrale Gianni Tagliani di Voghera.